Finisce per oggi la nostra puntata, ma il nostro viaggio invece continua, continua con novitini rari, cose molto interessanti, ma io non direi troppo. No, 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 non diciamo troppo perché lo scoprirete la prossima puntata dove saremo di nuovo qui in Campania, nella tua terra, dove ci farai scoprire altre prelibatezze. Quindi se siete rimasti incuriositi da quello che avete visto in questa puntata, non vi rimane che aspettare un'altra settimanella, circa, e potrete vedere quello che succede. Però, prima di lasciarci, come al solito, le nostre info. Che sono? Allora, se volete contattarci telefonicamente, potete farlo al 333-333-8693. Qui in basso c'è la sovraimpressione, diciamo così. Quindi se siete artisti, cantanti, ballerini e volete partecipare con noi in trasmissione, potete farlo chiamando a questo numero, semplicemente mandando un sms, voglio partecipare con voi, e noi vi richiameremo e farete parte della nostra famiglia, almeno per una puntata. Oppure potete cercarci su Facebook o YouTube. Su Facebook cliccate mi piace e su YouTube iscrivetevi al nostro canale per vedere tutte le nostre vecchie puntate e quelle nuove soprattutto, perché ogni settimana ci sono sempre novità. E soprattutto la prossima puntata. Vi aspettiamo, eh? Sintonizzati con noi. Ciao, ciao! 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 Grazie a tutti. Anni. Moon.